Ah, cosa ha fatto la Juve? Ronaldo ha vinto la Cepes, non doveva vincere la Cepes, non capivo un cazzo, io o voi? Non mi ricordo chi è che non capivo un cazzo qua, io o voi che commentate o quegli youtuber Juventus? Non mi ricordo, eh! Ah, ragazzi, godo, godo, godo perché non capito una ceppa di minchia, non capito una ceppa di minchia, a me è della Juve che passi, non passi, basta che non la vinca, però se andava un po' avanti anche per il ranking, ma andava anche bene, ma io godo per la dimostrazione che, bene, non è che io devo dimostrare niente, però vuol dire che qualcosa di calcio diciamo che ci capisco ancora, ok? Perché io dopo Juve-Lazio, Lazio-Juve che avete vinto 1-2 immeritatamente, che ha vinto la Juve 1-2, vi ho lanciato la maledizione, uscirete da tutto, Coppa Italia siete ucciti, Champions ci avete in luso, perché poi per carità, io stesso Juve-Atletico ho detto, grandissima Juve, c'è il video, ho fatto i complimenti, ma ci mancherebbe, ho elogiato Ronaldo, sicuramente Ronaldo c'è sempre in queste partite, e lui i gol li fa sempre, ma in generale questa squadra, nonostante la Rosa sia forte, tutto quello che volete, sia forse la Juve più forte come Rosa di questi anni, non ha il gioco per vincere la Champions, io l'ho detto dopo Juve-Lazio, gente che nei commenti, youtuber, grandi competenti, utenti, che non aspettavano altro, che Ronaldo segnasse per venire a dirmi, invece, tac, perché gira rigira, chi capisce di calcio, si vede, ok? Perché non è che tiro a caso le cose, se ho detto che la Juve non mi convinceva, non è che perché me lo sono sognato per darvi conto, a me non me ne frega un cazzo, l'ho detto perché vedevo, ok? Quindi, io ho uscito, io ripeto ragazzi, non ho visto la partita, perché ho lavorato fino alle 10, il tempo di arrivare a casa, purtroppo non l'ho vista ragazzi, dovevo uscire al 9 e mezza stasera, ma c'è stato un po' di previsti, quindi purtroppo non sono riuscito a vederla, però io dalla formazione, fai giocare Ken dall'inizio, poi magari non cambiava niente, però cosa mi rappresenta quel di Bala, lì prima punta, che già di Bala non è in forma, e metti Ken, cioè ma cazzo, ma sono il primo a dirlo, non esaltiamolo sto ragazzo che deve ancora dimostrare, ma è in forma, è come dire alla nazionale Quagliarella, ho capito che Quagliarella magari non potrà nel futuro, ma è in forma, lo fai giocare, ha fatto due goli infatti, ok? Il paragone è quello, quando il giocatore è in forma, devi farlo giocare, che sia Ken, che sia Cherry, che sia Spinazzolo, chiunque sia, Cherry ho detto perché era della Juve, un primavera, sei in forma, lo fai giocare, boh, lo fai giocare, poi Ken ha la personalità di giocare queste partite, poi sei in casa, non è che sei a giocare al Bernabeu, ho capito che magari, cioè, passi in vantaggio la Juve, quindi sarà messa anche bene, io vi dico la verità, io dopo la partita di andata ho detto, non sarà facile la partita, però io pensavo la Juve ce la facesse, vi dico la verità, cioè a questo punto io pensavo la Juve ce la facesse, però, comunque la Juve non è una squadra a vincere la Champions, questo io ve lo dissi da tempo, e ragazzi, io la dimostrazione che quando parlo, non ecco sempre ragione, ci mancherebbe, ma semplicemente io guardo le partite, non guardo i nomi, non guardo Ronaldo, Matuidi, Di Bala, allora deve per forza arrivare in finale, no, non è detto, non è detto, la Juve ha un gioco di merda, cioè la Juve non gioca male, è da inizio anno che ve lo dico, mi ricordo Lazio e Juve li abbiamo dominati, e hanno vinto di culo così che, cioè dai, ma non è una squadra che, l'Ajax gioca a calcio, l'Ajax gioca a calcio, poi, c'è chi dice, ma il calcio spettacolo, ma non è calcio spettacolo, non vuol dire calcio spettacolo, vuol dire giocare bene a calcio, ok? Il calcio spettacolo non è i passaggini così, l'Ajax gioca bene a calcio, ma veramente, la Juve no, la Juve no, non esiste quella cos'è, ma è concreta e cinica, ti capita una volta, ma il culo finisce, poi per quello lì è anche un po' culo, ok? Culo, poi il culo te lo devi andare a cercare, ok? Però non ci può essere sempre Ronaldo che ti fa tre gol, ok? E niente ragazzi, godo, godo tranquillamente, godo stasera, comunque io le squadre italiane in Champions non le tifo, sono indifferente, né le gufi in una maniera a parte la Roma, però ne vado a tifarle, sicuramente non voglio fare l'ipocrita, già chi vi lega al culo su YouTube ce ne sono tanti e io non sarò sicuramente uno di quelli, signori vi saluto, sono stanchissimo, purtroppo a differenza di Total Freddy io lavoro ad esempio, purtroppo c'è chi lavora magari mettendo i like alle fighe su Instagram che non lo cagano, tra parentesi, eh c'è chi lavora, eh ragazzi, purtroppo la differenza è anche quella, bella, ciao!